A Palazzo Achigli di Gavinano è stata inaugurata e sarà aperta al pubblico sino al 1 novembre la mostra fotografica per antichi sentieri e la scoperta del territorio di Sambuca Pistoiese di questi nostri Monti Dimenticati, mostra ideata e curata da Sante Ballerini con il sostegno della Fondazione Caripit e fotografie realizzate da Angelo Celsi per offrire al pubblico, come è stata presentata l'iniziativa, uno sguardo attento sul borgo di Sambuca Pistoiese come altre realtà della montagna negli ultimi anni, colpita da un forte degrado ambientale affiancare la mostra a un libro con diversi contributi Una mostra fotografica che si rispetti viene anche accompagnata da un libro catalogo in questo caso il libro che poi ne è nato, insieme alla mostra, è anche un libro da leggere perché porta la testimonianza di altri 13 autori, tutte persone che hanno voluto testimoniare con un breve scritto, il grande affetto per questi Monti anche un fine benefico, nel senso che una volta raggiunta la copertura dei costi tutto il ricavato eccedente andrà alla Croce Verde di Pistoia la quale Croce Verde avrebbe già destinato poi di riservarne la più parte del ricavato alla montagna perché la montagna ha grande bisogno naturalmente di aiuto anche per quello che è il soccorso